buonasera a tutti e benvenuti ad un'anteprima della speriamo che ci sia night session di questa sera su bitcoin con analisi evoluta marchio registrato è mercoledì 11 ottobre sono le 18 44 e stiamo scendendo ancora bene la prima considerazione da fare era quella che vi raccontavo ciclo motore in cui non si raggiunge il massimo precedente anche se il vincolo viene rispettato per il discorso del massimo che viene comunque superato dal massimo precedente al massimo successivo e poi inizio di discesa per cui noterete che da qui ho iniziato l'ho fatto tre secondi fa perché sto registrando il video perché ho avuto delle opportunità dopo una fantastica giornata di trading forse nato su dax e su nib in realtà su nib ok e colgo l'occasione per dire che cercherò di valutare quanti video fare rispetto a ciò che ho fatto fino ad adesso perché perché proprio grazie a tutto quello che sto imparando oltretutto anche oggi grazie al tecnica 2 al nuovo tecnica 2 operativo che sia short long o altro potrei scrivere una nuova enciclopedia dell'evoluzione dell'analisi evoluta e per questo motivo facendo molto più trading rispetto anche soltanto a sei mesi fa o anche a tre mesi fa ho meno tempo per fare video preferisco dedicarmi di più ottimizzare di più il tempo utilizzare investire più tempo in quello che ovviamente rende a me e chi ha scelto di fare trading con me con il gruppo premium per arrivare costantemente a risultati che ci piacciono con soltanto nelle ultime 11 operazioni 10 operazioni in gain su 11 fatte ok quella tra l'altro di stamattina era tra le più comode al mondo ovvero ritorniamo a ragionare d'accordo non a fare cose strane qui 46 barre no non dura così tanto un ciclo giornaliero che massimo ne dura 44 non 46 per cui ragionamento di una semplicità e di una banalità unica ok per chi lavora sui cicli da un po di tempo ok 34 34 barre rimbalzo purtroppo nessuno swing a conferma della partenza del settimo t meno 3 vincolo ribassista per cui questa mattina dato che il vincolo ribassista si è creata con questa candela alle 4 e 15 e io non ero sveglio ok quando abbiamo ripreso a salire pesantemente ho segnalato al gruppo che aveva senso valutato comunque uno short e chiedevo chi fosse entrato con la candela delle 4 e 15 in violazione del minimo a 27.325 dollari certo c'è stato un rimbalzo ma poi siamo andati esattamente anzi siamo andati meglio di quello che ci aspettavamo perché il target minimo era a 26.948 dollari e adesso come ho segnalato o si chiude lo short perché si è guadagnato molto bene chiudendo in gain oppure si mette un take profit e si va avanti perché si va avanti e per il fatto che qui con la candela attuale non è che abbiamo fatto cose particolari qui siamo arrivati a sì sbagliato oggi giornata veramente intensa di trading qui siamo arrivati a 29 barre sappiamo che al massimo si può arrivare a 44 chi è che vieta di andare anche soltanto 32 33 37 o altro nessuno abbiamo superato anche soltanto il massimo della candela precedente a 26.860 dollari no quindi se vi va bene il gain che ci si è portati a casa con questa operazione fantastico si chiude l'operazione semplice se invece si vuole valutare di mettere un take profit a difesa del prezzo di ingresso con cui si è entrato i short qui questa è l'area ok è talmente tanto in alto che si può mettere anche soltanto qui ok ma noi lo facciamo in modo molto differente e si può vedere se scende ancora d'accordo per questo motivo grazie al ragionamento che vi ho fatto fare relativo al ciclomotore inverso altra cosa che non esiste nella vecchia analisi ciclica del migliorino da cui tanti hanno preso per parlare di cicli ok volevo farvi vedere a che punto siamo della centratura volevo darvi delle informazioni importanti siamo su un settimanale che si delle informazioni molto importanti possibile chiusura su questo massimo di tutta la struttura precedente e inizio di discesa peraltro dopo i video che e le live che avete visto che faccio su un soft trading sappiate che anche sui squat ha deciso di riprendere con la formazione che tra l'altro avevamo fatto già se non mi ricordo male anche dal vivo in varie città d'italia insieme sui cicli circa sei o sette anni fa ormai ok sono ritornati in a parlare anche con il mercato europeo per cui se avrete piacere verso fine mese orientativamente di partecipare ad un'altra live in cui parlerò probabilmente di inverso e di indice quindi il rapporto tra le due cose e magari accennerò anche d'altro stay tuned state collegati al canale diffondete la cosa perché ovviamente come al solito questo è l'unico canale in cui racconterò quando si terrà appunto la live e quando potrete scrivere domande o interfacciarvi con me per chiedermi qualsiasi tipo di cosa ok dire che è tutto per l'anteprima vi ringrazio per il vostro tempo se vi è piaciuto il video in cui vi ho dato varie informazioni che ritengo possono essere di valore per voi compresa questa mettete un bel like e con vi dividetelo con tutti gli amici che vogliono migliorare la loro performance di trading arrivederci